Dopo aver parlato ieri con Nunzella, parliamo con Garoppolo, due corsie del Parma e del Catania lo scorso anno. Ti faccio la stessa domanda che ha fatto lui, si passa dalla sconfitta in Coppa Italia all'esordio in campionato, come state vivendo questa transizione? Stiamo vivendo questa settimana con il grande entusiasmo che ci ha accompagnato per tutto il ritiro, perché è giusto così, perché inizia sabato una grande stagione contro una squadra che gli brucia ancora la retrocessione, quindi andremo lì per dimostrare che questo gruppo è da un mese e mezzo che insieme sta facendo un grandissimo lavoro. Del 3-5-2 che Napoloni sta schierando all'inizio stagione, a che punto siete dal punto di vista dei vari movimenti, l'amalgama, proprio la compattezza della formazione. Sì, come già ho detto stiamo facendo una grandissima preparazione, quindi è normale che è una squadra per molti elementi nuova, quindi su molti aspetti stiamo lavorando per cercare di trovare la quadratura giusta, quindi ora c'è la prova più importante che è quella che ci porta a iniziare una grande stagione e poi su molti aspetti stiamo lavorando per cercare di migliorarci sempre. Ecco, quanto può essere fondamentale? Sembra una domanda banale, ma l'abbiamo vista anche l'anno scorso, tu non c'eri, ma con la vittoria di Arzignano. Quanto può essere fondamentale vincere già subito la prima uscita? Sì, sarebbe molto fondamentale, però sappiamo che andiamo ad affrontare una squadra che, come detto prima, già non vive in acque contente, quindi noi dobbiamo essere pronti su molti aspetti, sia sul livello fisico, mentale che agonistico, perché chi gioca contro di noi darà il massimo e noi dobbiamo sempre essere pronti per cercare di fare i nostri risultati. Ecco, di quel, abbiamo parlato spesso anche con te, di quel Novara che vince il campionato di Lega Pro, siete diversi, ti sembra di rivivere un po' le stesse sensazioni che vivevi all'inizio di quella stagione? Sì, infatti molte volte ne parliamo anche tra noi stessi, c'è grande armonia tra noi, si sta creando veramente un grandissimo gruppo e tutti questi sono valori che alla fine faranno la differenza, quindi dobbiamo continuare su questa strada perché è la strada giusta, iniziare il campionato con un risultato positivo che ci darà quella cosa in più per cercare di migliorarci sempre. Il 3-5-2, il lavoro degli esterni è fondamentale, quanto vi sta responsabilizzando Apolloni in queste settimane? Già essere qui a Parma è una responsabilità grossa, quindi poi il mister sa che i quinti deve chiedere tanto ma come stanno lavorando tutti, perché un grandissimo lavoro devono fare sia le mezzali che gli attaccanti in prima battuta che i tre dietro, quindi è un modulo che se fatto bene può fare la differenza, quindi stiamo lavorando molto per trovare le distanze giuste, per cercare di trovare dei movimenti che ci permettano di mettere più in difficoltà gli avversari. Personalmente tu preferisci difesa tra o difesa quattro? No, no, mi piace tutte e due, poi la difesa cinque diciamo molte volte ti permette di lavorare a quattro dietro perché quando spingi da un lato devi coprire dal lato opposto, devi essere un difensore a tutti gli effetti, quindi è un modulo che molte squadre hanno vinto campionate e tutto, quindi speriamo di ripeterci anche noi. Che Modena vi aspettate sabato sera? È un Modena arrabbiato sicuramente, perché quando viene da una retrocessione poi la vicissitudine societaria e l'ambiente un pochettino pretende qualcosa in più da chi è rimasto, è giusto così, quindi noi già da lunedì ci siamo concentrati subito dopo l'eliminazione di Piacenza, quindi siamo proiettati su Modena e non vediamo l'ora che inizi questo campionato. Senti, Modena ha arrabbiato ma tatticamente avete cominciato a studiarlo un po'. Sì, sì, questo non lo diciamo. Quali sono i pericoli? I pericoli? È sempre una squadra che ha mantenuto degli elementi che l'anno scorso erano in Serie B. I pericoli sono la voglia che possono avere i giocatori di riscattare alla prima giornata tutto il periodo brutto che sicuramente hanno vissuto dopo la retrocessione, ma noi dobbiamo dimostrare che stiamo lavorando bene, dobbiamo incominciare a raccogliere punti perché alla fine sono quelli che alla lunga fanno la differenza. A che punto siete come percentuale? Se puoi dare una percentuale. Percentuali non mi piace dare numeri, però ancora a livello fisico ci stiamo lavorando, stiamo cercando di arrivare a domenica in una condizione più che ottimale, però vi posso assicurare che la squadra sta lavorando tanto e bene. Prima parlavi di armonia, di collettività, però al di là di questi elementi che comunque fanno piacere, sono comunque utili nel corso della stagione, il Parma sembra, dalle amiche, che abbia subito un poco. Sono sempre le stesse situazioni a darvi fastidio. Come state lavorando per ovviare queste mancanze? Perché alla fine si parla di palle inattive, ma si rischia... Si può parlare di palle inattive, ma non deve diventare un fattore mentale perché è una squadra nuova, è una squadra che sta cercando di trovare anche in questo una quadratura, se sarà marcatura zona, marcatura uomo, questo aspetterà il mister e sta lavorando su varie situazioni. Noi sicuramente il secondo gol è stato più una cosa di concentrazione perché è stato al 93esimo, quindi è stato più un fattore di concentrazione. Una squadra del nostro calibro non deve permettere che succeda questo. Quindi fortunatamente è successo in Coppa Italia, abbiamo tutto il tempo per lavorare, per cercare che tutto questo col Modena non succeda perché ora quello che fanno le differenze sono i punti, che sia un punto o tre punti sono importanti. Un'ultima domanda, un'ultima curiosità. Hai avuto modo di sentire Bergamelli in queste ultime settimane? Dario ci sentiamo sempre, quindi fa sempre piacere perché è un grandissimo giocatore, è un ottimo ragazzo, quindi sono anche io ansioso per lui, spero che risolva i suoi problemi che ha a Catania perché è un ragazzo che merita ben altro. Però a questo punto manca una settimana, alla chiusura del mercato? Tutto può succedere, però non l'ho detto a me perché è giusto che rispondi. Lui che lo deve dire a te. So che sta passando un periodo un po' così e gli faccio un grande bocca al lupo perché gli voglio bene. Grazie.